Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, io sono Simone, sono uno studente all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Sono arrivato in questo Ateneo quasi per caso, a dir la verità, perché avevo paura di trasferirmi per frequentare un'università fuori dalla mia città, perché temevo che non avrei studiato abbastanza e quindi mi sono deciso di iscrivermi qua e si è rivelata la scelta migliore che potessi fare. Il percorso di studi mi piace molto ed essendo un Ateneo relativamente piccolo è più facile avere un rapporto più intimo con i docenti, in modo da poter fare loro delle domande qualora fosse necessario. Sono tutti molto disponibili, sono pronti ad aiutare gli studenti se hanno difficoltà e inoltre il corso non è tenuto solo dai docenti, ma ci sono anche figure esterne all'università, professionisti sia della comunicazione giornalistica che televisiva, che offrono seminari e approfondimenti alle lezioni. Per me l'Insubria si è rivelata una seconda casa e spero possa esserlo anche per voi. Speriamo di vedervi presto.